Per i danni ai comuni del Messinese che si sono verificati nelle sede scorse, il Dipartimento regionale di protezione civile ha stanziato oltre 653.000 euro. In testa c'è Torre Nova con 138.000, poi Sant'Aga da Militello con 122, Alcaralifusi ha ottenuto 94.000 euro, Capodorlando 61.000, 55.000 a Galatima Mertino, 50.000 a San Marco da Lunzio, 39.000 a Caronia. Altre risorse a Castellumberto, 36.000 euro, Longi 20.000, Acquedolci 16.000, Fondachelli-Fantina 9.000 e Militello-Rosmarino 8.000. Per quel che riguarda nello specifico Capodorlando saranno coperte le spese affrontate a seguito del nubifaggio che si è abbattuto sul territorio comunale il 26 agosto scorso. In particolare il Comune è intervenuto per ricostruire il muro d'argine del torrente Bruca per il ripristino di un tratto di fognatura nei pressi del depuratore di contrada Tavola Grande e per la sistemazione di alcune strade. Abbiamo realizzato con prontezza lavori di messa in sicurezza prioritari in alcune zone del territorio che hanno patito pesanti disagi a causa di eventi meteo eccezionali, ha commentato il sindaco Franco Ingrillì. Adesso, con celerità, la regione ci risarcisce delle somme impegnate grazie anche all'immediata interlocuzione avviata con l'ufficio del responsabile dell'area lavori pubblici Mario Sidoti Migliore. Le emergenze idrogeologiche, purtroppo ormai frequenti, richiedono risposte immediate che possono giungere solo grazie ad una proficua sinergia tra le istituzioni.